Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento che si svolge proprio in corrispondenza di una data importante per il CSMT. Era infatti il 22 dicembre del 2006, quindi 15 anni fa, quando la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, la Camera di Commercio, l'Università degli Studi di Brescia e Confindustria, allora ancora AIB, ebbero l'intuizione e la visione di dotare il nostro territorio di un polo tecnologico per fare da tramite fra il mondo della formazione, della ricerca e quello delle imprese. Ringrazio le istituzioni, le associazioni di categoria, gli istituti bancari e tutti i presenti oggi per la vostra significativa partecipazione anche in un periodo molto prossimo alle festività natalizie e sarà un'occasione ovviamente per scambiarci gli auguri. Saluto in particolare tutti gli studenti degli istituti superiori dell'Università Statale e Cattolica che ci stanno seguendo in streaming e insieme a tutti i cittadini che ci stanno seguendo in una diretta che è stata messa a disposizione dal giornale di Brescia e quindi ringrazio per la disponibilità che sempre ci dedica. Oggi avremo l'occasione di sentire molti interventi, con un format vivace e innovativo, sul modello californiano del TEDx. Lo faremo alla Bresciana ovviamente. Parleremo principalmente ai giovani e parleranno i giovani perché parleremo e introdurremo per la prima volta all'attenzione della città di un progetto molto innovativo che crediamo aiuterà Brescia e quando parlo di Brescia intendo il territorio bresciano, dalle valli ai laghi, dai monti alla pianura, la nostra meravigliosa provincia di Brescia e aiuterà il nostro territorio ad affrontare le importanti sfide e trasformazioni che ci attendono per affermarci come un modello di città moderna, innovativa e sostenibile. Quando quest'estate mi è stato proposto di assumere la presidenza del CSMT Gestione ho chiaramente compreso come si trattasse di un grande onore ma anche di una grande responsabilità. Nel corso degli ultimi vent'anni io ho dedicato 100% del mio tempo allo sviluppo della mia azienda e oggi la mia decisione di accettare questo impegno importante e oneroso è un desiderio di restituire a Brescia parte di quello che Brescia mi ha donato. Senza l'opportunità che mi fu data all'Università degli Studi di Brescia alla fine degli anni 90 di costituire una società di spin-off dal laboratorio di optoelettronica di allora oggi probabilmente la mia azienda non ci sarebbe. Io sarei probabilmente un ingegnere nel mondo chissà dove a portare il mio contributo. E quindi uno dei ruoli del CSMT, fra i tanti, è proprio quello di supportare l'avvio di iniziative e di start-up come quella che una volta era Interest Vision, oggi un valore importante del territorio e cercare di replicarne delle altre con le adeguate risorse e con i modelli ad hoc di sviluppo che cercheremo di adottare. Il periodo che stiamo vivendo rappresenta certamente un momento di grande complessità e rappresenta un momento di grande discontinuità. In questi momenti ci sono tante minacce, tanti rischi per noi, ma ci sono anche tante opportunità. E chi è in grado di cogliere andrà avanti e porterà un futuro migliore al proprio territorio. Chi non lo farà è destinato a regredire, forse in modo irreversibile. E quindi proprio chi come noi vive in una città, in un territorio che ha una posizione di privilegio, di uno storico benessere, intendiamoci conquistato con grande sudore, con grande lavoro dai nostri genitori, e soprattutto in seguito alla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Noi abbiamo la maggiore responsabilità di assicurare la continuità del nostro benessere. Anzi, se possibile, dobbiamo approfittare per migliorare il nostro posizionamento. Questo quindi è il nostro momento. È il momento, deve essere il nostro momento, un momento di unire le forze, e qua c'è la rappresentanza più importante della nostra cittadinanza, e costruire insieme la Brescia del futuro. Sarà un processo certamente difficile, di profonda trasformazione, in cui dobbiamo lavorare insieme per continuare ad assicurare il benessere al nostro territorio. Benessere sociale, economico e ambientale. Per fare questo, oggi Brescia più che mai ha bisogno anche di dare un'identità forte, distintiva, attrattiva, affinché i giovani bresciani possono restare, decidano di restare e non siano costretti a trovare altrove la loro opportunità e il loro benessere. Di più, direi, affinché chi non è bresciano voglia venire nella nostra città, per studiare, per lavorare e, perché no, per vivere e contribuirne allo sviluppo. E noi qua siamo in un territorio molto ricco, siamo molto fortunati. Abbiamo tutto quello che serve per sviluppare il nostro futuro. Abbiamo un territorio meraviglioso, come detto, con grandi potenzialità anche nel comparto turistico. Abbiamo una vocazione universitaria, fra le più importanti in Italia. L'Università degli Studi di Brescia è nata solo 40 anni fa e oggi è già una delle prime dieci università italiane. Abbiamo l'Università Cattolica che ha fatto un grande investimento quest'anno per ampliare e per investire sul territorio bresciano. Abbiamo un patrimonio artistico e culturale rappresentato da questo museo di altissimo rilievo. Abbiamo risorse economiche, finanziarie, notevoli, grazie ad un tessuto di piccole e medie imprese, industriali ed artigiane, fra i più sviluppati non solo in Italia, in Europa, nel mondo, direi. Siamo la prima provincia per produzione agricola in Lombardia, che è la regione principale in Italia. Ma chiaramente tutti questi comparti, però, facciamo attenzione, dovranno giocare una partita cruciale nei prossimi anni per mantenere la loro competitività e sostenere i grandi cambiamenti che il mondo ci farà affrontare. Ecco, questo ecosistema di eccellenze che rappresenta la nostra provincia è Brescia. Tutto questo insieme, questa eterogeneità di competenze e di risorse, è la vera nostra forza che dobbiamo catalizzare in un'identità ben riconoscibile, in cui prima identificarci, noi stessi riconoscerci come Bresciani per questo ecosistema che abbiamo a disposizione e poi opportunamente comunicarlo al di fuori. Un'identità distintiva su cui dobbiamo investire e poggiare il nostro sviluppo futuro. Un'identità che aiuti a creare una meta condivisa su cui concentrare tutti i nostri sforzi, ognuno per le sue responsabilità. Quando il Presidente della Repubblica venne a Brescia per inaugurare la vittoria a lata restaurata, ci esortò affinché quel importante momento fosse simbolo di un nuovo rinascimento per la città. Il rinascimento fu un'epoca straordinaria dove fu l'arte che fu lo stimolo trainante per la trasformazione della società italiana. Noi oggi pensiamo che la nuova arte del rinascimento sia l'innovazione sostenibile. Fare insieme innovazione sostenibile è la mission del CSMT. Sostenibilità sociale, economica e ambientale è il vero benessere e l'innovazione è lo strumento per raggiungere questo. L'innovazione della tecnica, l'innovazione di pensiero, l'innovazione di come usufruire del nostro territorio e delle nostre risorse artistiche. E la cittadella dell'innovazione sostenibile, di cui si parlerà in seguito in dettaglio, può essere la messa a terra di questo concetto innovativo in cui l'ecosistema Brescia può identificarsi e trovare un nuovo modello virtuoso di sviluppo. Un luogo fisico dove Brescia si incontra e si sviluppa come avvenne nelle botteghe rinascimentali, dove l'arte, la cultura e la tecnica trovarono la loro sintesi e crearono le condizioni per lo sviluppo del mondo moderno. Tutto nacque da una città, era Firenze. Un progetto che per essere realizzato deve essere il progetto di sistema, il progetto di ecosistema di Brescia. Il progetto di collaborazione fra pubblico e privato che rappresenti la volontà di sviluppo di Brescia e che consenta anche di aggregare tutte le sinergie di iniziative sul territorio che stanno procedendo, anche collegate al PNRR, dandone più forza in un'esecuzione coordinata. Vi ringrazio quindi fin d'ora per il contributo che sono certo che state già rendendo e vorrete rendere insieme per rendere la nostra città ancora più splendida. Grazie. Grazie.